Sveglia Lorenza! Questo è un pezzo di arte che mi hanno detto di via Whatsapp! Penso rispondi! Sveglia Lorenzo! Madre! Io che se, a me che me cuentas! Io non so che ma dire! Paralla! Paralla! Bla 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 bla! Asasa! Tu madre! L'amore, la cassa e... Tu madre! L'amore! L'amore! Grazie per la visione!